cari amiche e cari amici buonasera perché parlando di Giovanni ventitresimo lo definisco un tuono quello di Giovanni ventitresimo fu un pontificato breve poco meno di cinque anni ma di straordinaria potenza che rovesciò molte convinzioni sino ad allora incrollabilmente radicate nella chiesa cattolica avviandone o perlomeno sperando di avviarne il rinnovamento di recuperare quel rapporto con la storia che era avvenuto meno a partire dal sedicesimo secolo e a questo proposito io dico un tuono un tuono di solito giunge inaspettato violentissimo di grande potenza ma molto breve il tuono dura pochissimi secondi ma in quei secondi sprigiona tutta la potenza degli elementi abbiamo incontrato il giovane seminarista Roncalli a Roma nel prima della guerra della prima guerra mondiale che frequentava la chiesa del Gesù insieme a una compagnia poco raccomandabile per la chiesa era un gruppo di seminaristi tutti di indirizzo che successivamente sarebbe stato detto modernista e fra questi c'era Ernesto Buonaiuti che poi ho ricordato fu il prete che assistette Roncalli nella sua prima messa ve ne ho parlato riferendovi del libretto di Andreotti del laureo libretto di Andreotti i quattro del Gesù estremamente interessante dunque una origine insomma che puzza dello zolfo modernista ma definire modernista Roncalli sarebbe troppo e pensare che lo sia rimasto per tutta la vita no questo quasi certamente ha avuto delle sfumature però sicuramente lui fu molto vicino al vescovo della sua città di cui fu segretario Monsignor Redini Tedeschi che era certamente un personaggio non modernista ma diciamo di simpatie molto avanzate e insieme al suo vescovo a dire del quanto particolare fosse il personaggio partecipò alle agitazioni del lavoro della sua diocesi appoggiando i lavoratori al punto che vescovo e segretario vennero deferiti al sant'uffizio poi uscendone indenni Roncalli dopo l'ordinazione lo scudo di radini tedeschi che Roncalli ammirò sempre per tutta la sua vita lo difese dai fulmini che colpirono invece gli altri e in qualche modo è interessante notare una cosa il vescovo Radini Tedeschi morì poi nel 14 praticamente alle soglie della prima guerra mondiale e Roncalli nello stesso tempo iniziò a insegnare storia della chiesa nel seminario è interessante una cosa la sua passione per gli studi storici e l'ammirazione in particolare per il cardinal Baronio che fu il primo a scrivere anali di storia della chiesa siamo proprio ai primissimi se siamo nel 1601 1602 e forse la preparazione anche precedente degli ultimi del cinquecento tanto che ehm Roncalli dedicò un articolo al cardinal Baronio e per la sua insegna episcopale quando poi sarà fatto vescovo riprenderà invertendolo il motto del cardinal Baronio il motto del cardinal Baronio era pace e obbedienza quello di Roncalli diventerà obbedienza e pace questo però vi dice del interesse di Roncalli per la storia e l'abbiamo visto come in realtà la partita nella chiesa ormai dalla comparsa dei modernisti si giocava in particolare sul terreno della storia eh Roncalli però non fu solo un teorico un dopo sarà un diplomatico ma prima ancora di essere diplomatico ebbe le le sue esperienze pastorali prima come cappellano nella prima guerra mondiale dopo in qualche modo seguendo una serie di funzioni non non è non fu mai parroco ironia della storia passerà alla storia come il dolce parroco del mondo però lui parroco non fu però ebbe una serie di incarichi diocesani per i quali svolse attività pastorale quindi è un uomo a cui non manca la dimensione non mancò la dimensione pastorale né all'inizio né alla fine della sua capiera prima dell'elezione papale quando sarà come vedremo patriarca di Venezia quindi si studioso studioso di storia si pastore si diplomatico e infatti nel 1925 fu nominato nunzio apostolico in Bulgaria nove anni dopo nel 34 nunzio apostolico a Istanbul dove strinse un rapporto di grande amicizia con l'ambasciatore tedesco che era il cattolico von Papen già capo del partito del Zendrum cattolico è un'amicizia che tornò utile per salvare la vita a quasi 25 mila ebrei in qualche modo coperti dalla mediazione di Roncalli e dalle distrazioni di von Papen poi arriverà una nave carica di bambini ebrei tedeschi che avrebbe dovuto essere rimandata in Germania per la neutralità della Turchia ma lì sarebbero finiti nei campi di concentramento e con una serie di artifici si riuscì a salvare anche quelli poi nel 1953 venne nominato cardinale e patriarca di Venezia dove dette sfoggio ha il suo particolarissimo stile personale riceveva tutti senza particolari preoccupazioni protocollari era sempre disponibile per chi chiedesse un aiuto aveva rapporti personali diretti era solito uscire dalla curia accompagnato solo dal suo segretario Monsignor il futuro Monsignor Loris Capovilla che lo seguirà nel in Vaticano come suo segretario personale poi sarà nominato vescovo morto a 101 anni credo eh qualche anno fa non troppo tempo fa e proprio lì rivenne fuori una sua particolare predilezione per i partiti democratici a differenza di Pio XII il cui spirito aristocratico invece eh Papa Roncalli era di umili origini contadine quando venne fondato il partito popolare lui non nascose le sue simpatie poi ehm espresse invece un giudizio cautissimo per carità e pur sempre un monsignore eh un suo giudizio mica tanto favorevole a Mussolini del quale diceva che forse ha dei fini nobili giusti e cioè è ma i modi che usa sono modi assolutamente inaccettabili giuridicamente e moralmente non era un giudizio molto favorevole quando poi fu patriarca a Venezia questa sua anima mh chiesa a sconfinare venne fuori quando il partito socialista italiano dopo eh la rottura col patto del patto di unità d'azione con i comunisti seguita all'invasione russa della Turchia eh scusate l'Ungheria scusate quelle papere che ti vengono e quindi in odore di autonomia infatti in quel congresso iniziò a prevalere l'anima autonomista del Psi e lui mandò un saluto al congresso del Psi augurando buon lavoro un vescovo che augura buon lavoro ai miscredenti socialisti la cosa non fu presa con grande simpatia però alla fine venne ridotta a un gesto di cortesia mai successo prima un gesto di cortesia del genere nei confronti ma devo dire neanche dei congressi della D.C. non usava fare queste cose ma comunque quando poi si giunse al conclave bisogna capire perché prevalse Roncalli bisogna capire alcune cose pacelli lasciava una anche una curia oltre che un'intera chiesa ridotta decisamente a mal partito ma una curia in uno stato di abbandono notevole aveva silurato come segretario di stato Monsignor Montini spedendolo a Milano per carità come arcivesco mica una sede di niente la seconda sede episcopale della chiesa dopo quella di Roma la cattedra di Ambrogio sì però senza nominarlo mai cardinale e infatti dal 53 in poi Pio XII non nominò più nessun cardinale per cui man mano che morivano i più anziani il corpo cardinalizio si ridusse a una cinquantina di persone delle quali per di più due Monsignor Nizenti e Monsignor Stepinac che vivevano in regimi comunisti erano particolarmente diciamo così osservati in Ungheria perché si rimproverava a Mizenti di aver sostenuto il corso diciamo del chiamiamolo così della primavera ungherese a Mizenti di aver appoggiato il movimento dei crizari crociati della Croazia in odore di estrema destra e sicuramente non visti di buon occhio da Tito anche perché questi facevano lotta armata entrambi i cardinali si erano rifugiati nell'ambasciata americana uno a Budapest l'altro invece nella sua città quindi non potevano muoversi e non parteciperanno al concilio quindi alla fine il corpo degli elettori si ridurrà a 51 persone non c'era più nemmeno un segretario di stato perché dopo aver silurato Montini si dice che lo abbia silurato però ignoro quali documenti ci siano perché Montini avrebbe avuto una cena contro gli atti di cui non aveva riferito poi al Papa che l'ha prese malissimo e questo è il motivo può darsi fatto sta che le finanze vaticane come sempre erano diciamo come per dirla con l'espressione elegante piangeva il piatto anche perché e beh più dodicesimo già più decimo più undicesimo fra l'operazione russicum la fondazione della radio vaticana il l'intervento per sostenere la chiesa messicana e altro e insomma aveva fatto un bel buco di cassa più dodicesimo ci aggiunse l'operazione intermarium l'operazione che sfocerà nell'anti-Boschewic bloc of nation ufficialmente esterno ed estraneo al Vaticano ma comunque sostenuto più altre che in qualche modo costavano in particolare il piatto dicesimo cavalcò molto poi la radio vaticana potenziandola quindi altre cose a proposito di questo vorrei ricordare un episodio divertente l'annunciatore di radio vaticana all'epoca era l'attore Elio Pandolfi che aveva una voce particolarmente impostata molto calma ma che soffriva di una fobia nei confronti di vespe e volatili del genere mentre era al microfono arrivò in studio una vespa e lui perse il controllo e anziché dire sia lodato Gesù Cristo parla radio vaticana disse qui parla Gesù Cristo sia lodato il Vaticano il che era molto nello spirito pacelliano peraltro però non era il caso di dirlo così apertamente bene tornando a noi quindi problemi di cassa problemi di riordino si poteva continuare a non avere un segretario di Stato e il vice non era neanche un segretario di Stato senza esserlo non era neppure cardinale come non era cardinale Montini l'arcivescovo di Milano quindi c'era anche questo problema serviva un papa che avesse due caratteristiche anzi forse tre primo un papa che mettesse a posto l'ordinaria amministrazione perché insomma la situazione non era brillante secondo un papa di grandi abilità diplomatiche per ridare in qualche modo un certo dinamismo alla presenza della Santa Sede che dopo i disastri combinati da Pio XII e insomma non godeva proprio di particolare buona stampa all'esterno della chiesa infine serviva un papa non troppo giovane perché e insomma si veniva da una lunga serie di papati di pontificati superiori alla media dei sette anni anzi più che doppia se mettete insieme i 32 anni di Pio IX i 25 anni di Leone XIII gli undici anni di Pio X i nove anni di Benedetto XV i dieci anni di Pio XI e poi i diciannove anni di Papa Pacelli significa che in 140 anni c'erano stati solo sei papi si riteneva invece necessario un papato di transizione calmo che durasse poco che riordinasse la pubblica amministrazione l'amministrazione vaticana un pontificato forse un po' sottotono si immaginava ma che in qualche modo desse respiro alla chiesa per riorganizzarsi meno fragoroso dei precedenti ma tutto sommato più ordinato allora il primo requisito diventava l'età oddio non è un requisito assoluto perché c'erano ci fu qualche candidato non proprio anziano adesso vedremo e ci furono c'erano cardinali ancora più anziani di Roncaldi quindi si poteva scegliere anche diversamente ma c'era un altro problema troppi candidati forti e quando sono troppi candidati forti nessuno è forte perché perché ciascuno ha il suo gruppo e magari non è molto disposto a cederlo agli altri c'erano molti candidati il candidato della curia preferito dalla curia era Monsignor Pietro Agagianian che era un armeno però di passaporto libanese ed era un personaggio di notevoli capacità assolutamente capace dal punto di vista diplomatico però aveva due inconvenienti prima di tutto era appena 62enne troppo giovane 62 63 anni e un papa eletto a 62 anni può tranquillamente durare 10 12 13 anni non è un pontificato di transizione in secondo luogo Agagianian era il candidato alla curia quindi in quanto tale in disgrazia agli occhi di tutti i cardinali residenziali quelli che erano titolari effettivi di una diocesi l'anima pastorale poi si aggiungeva un altro particolare ci fu un un'operazione dei servizi segreti italiani ispirata chissà che montò una cosa obiettivamente ingiusta sulla sorella del cardinale Agagianian indicata come spia sovietica cosa che non stava molto in piedi ma che sul momento danneggiò molto Agagianian però c'erano anche tanti altri candidati c'era il decano Aloisi Masella Aloisi Masella c'era poi una serie di vescovi come Lercaro vescovo di Bologna come il cardinal Mimmi vescovo di Napoli c'era l'ombra bel terribile vescovo di Milano Montini che in realtà era debole perché non essendo cardinale non partecipava ai lavori quindi non poteva stendere alleanze eccetera però in teoria era elegibile anche lui tanto è vero che nelle prime votazioni ebbe alcuni voti pochissimi due tre voti e c'era poi il terribile candidato Ottaviani che che era il prefetto del santo ufficio il custode dell'ortodossia della fede inoltre molti pensavano che il miglior candidato tra gli altri a sostenerlo ci furono proprio Aloisi Masella e il cardinal Cicognani due nomi di peso il vescovo l'arcivescovo di Genova Siri e Siri però che era ritenuto il naturale prosecutore dell'ordine imposto da Pacelli quindi il più vicino ai suoi orientamenti teologici eccetera un difetto 52 anni uno a 52 anni può durare una vita tant'è vero che poi Siri è morto nel 1989 certo che non si poteva prevedere che sarebbe vissuto ancora 37 anni e va bene no più o meno ma obiettivamente a 52 anni lo sai che c'è molta probabilità che questo uomo ne campi almeno 20 25 e quindi no Siri non era spendibile gli altri erano tutti candidati in qualche modo dotati di seguito personale ma troppi per permettere ad altri di emergere ma troppo pochi per emergere ciascuno di loro alla fine il confronto diverrà un confronto fra Roncalli e Agagianian prima votazione Agagianian 20 voti Roncalli 18 poi ci furono quattro voti per Lercaro due per Montini qualcuno per Valenzi ma insomma si capì che il confronto era fra quei due perché alla fine prevalse Roncalli per una serie di ragioni se per questo un po' vi ho detto da cos'era danneggiato Agagianian troppo giovane ma soprattutto perché era candidato curiale e c'è l'antico odio dei vescovi residenziali in questo caso vescovi cardinali nei confronti della curia fino ad allora la curia era stata abbastanza seguì non sfidata nei suoi orientamenti anche i papi precedenti più undicesimo più dodicesimo ehm in una certa misura anche benedetto quindicesimo furono candidati di curia benedetto dei eh scusatevi più dedicimo ce la fece perché il candidato che avrebbe potuto rappresentare la curia rampolla del tindaro fu colpito dal veto dell'austreungheria quindi a quel punto bisogna trovare qualcosa quindi prima di tutto c'era questo punto debole poi l'età e poi io ho detto l'operazione dei servizi contro di lui Roncalli aveva una serie di il suo gruppo iniziale era piuttosto limitato godeva dell'appoggio dei cinque cardinali francesi cui si aggiungeva Monsignor Tisserand e la cosa ha la sua importanza perché Tisserand era uno che contava molto nella curia vaticana era di fatto non solo il più in sei insigne biblista il responsabile della biblioteca archivio vaticano dove c'è l'archivio segreto ma soprattutto era il vero capo o perlomeno faceva le funzioni di chi coordinava le attività di intelligence del vaticano che come noto non ha un servizio segreto però fa lo stesso un po' di operazioni come quelle che ho ricordato peraltro Tisserand era uomo di mestiere perché lui diventa prete diciamo abbastanza adulto poi comunque per le leggi francesi viene chiamato sotto le armi e spedito in Siria dove sarà ufficiale del dossier bureau cioè del servizio segreto francese quindi uomo di mestiere poi rientrerà nella chiesa farà una carriera molto rapida dunque aveva Roncalli sei voti cui si aggiungevano quelli del vescovo di Torino e quello del vescovo di Firenze quindi primo nucleo non grandissimo ma insomma maggiore di quello degli altri candidati minori l'uomo dell'anticuria doveva essere lui si aggiungeva una cosa si aggiungeva il giudizio personale che c'era su Roncalli un vecchietto simpatico molto dolce molto gentile sostanzialmente innocuo dai su cosa vuoi che faccia prima di tutto a quell'età poi personale gentile per carità amabilissima però cosa vuoi che faccia farà i suoi 4 5 7 anni ma 7 già tanto di pontificato rimetterà un po' di ordine nella curia e quindi in qualche modo lo stesso Roncalli devo dire non so se senza volerlo o studiatamente coltivava molto questa immagine del nonnetto per esempio lui riesumerà dall'archivio dal armadio vaticano il copricappo dei papi del rinascimento il camauro che era una specie di cuffia bordata di ermellino che faceva tanto nonno che sta andando a dormire gli dava questa immagine per cui va beh votiamo per Roncalli e dunque l'unica promessa che Roncalli scusatemi se uso questi termini manterrà alla fine sarà quella della brevità del mandato perché morirà prima ancora del quinto anniversario della sua elezione l'elezione fu nell'ottobre nella fine ottobre del 1958 lui morì nel giugno del 63 il 3 giugno del 63 quindi tendenzialmente era nella previsione il guaio per i cardinari che tutte le altre previsioni si rivelarono sbagliate intanto la prima cosa che agitò molte coscienze cardinalizie fu la scelta del nome a voi forse non dice niente Giovanni ventitresimo però quello era un nome maledetto perché ed era un nome che dal quindicesimo secolo nessun papa aveva più usato nonostante sia stato sempre il nome più utilizzato dagli eletti al sodio pontificio nessun papa ha mai avuto 21 per 21 volte il nome di Giovanni però il problema è questo Giovanni ventitresimo c'era stato un Giovanni ventitresimo che però era un antipapa nel periodo dello scismo ad occidente poi composto dal concilio di costanza indetto proprio a Giovanni ventesimo che però venne deposto era un antipapa non va bene peggio ancora il precedente Giovanni ventiduesimo fu il più indecente dei pontefici che trasformò la santa sede il palazzo papale letteralmente non in modo metaforico in un postribolo e in una casa da gioco non proprio un papa di cui me ne ha vanto per cui quel nome era tabù il fatto che Giovanni che Roncalli scegliesse il nome di Giovanni e insomma un po' allarmò quello era un nome maledetto che puzzava di zolfo va bene in ogni caso purtroppo per l'evangelista Giovanni e per Giovanni il battista il loro nome fece una pessima fine fino a certo punto poi lo riscopre Roncalli proprio con esplicito riferimento al vangelo di san Giovanni altra cosa che forse avrà dato qualche mal di stomaco perché il vangelo di Giovanni il meno amato nella chiesa cattolica e invece particolarmente amato nelle logge massoniche dove nei templi è aperta è aperto il vangelo proprio al vangelo di Giovanni e la traduzione in italiano dell'originale greco eccetera fu curata negli anni 50 da salvatore quasimodo che era un premio nobel per la letteratura però era anche un po' massone pure lui quindi in qualche modo ma beh comunque una stramberia da perdonare i guai cominciarono il 28 gennaio 1959 quando a freddo e senza alcun perviso Giovanni ventitresimo annunciò candidamente che la sua intenzione indire un concilio ecumenico è notevole che tutti i presenti ricordano che i cardinali presenti alibirono e nessuno applaudì un po' per ragioni economiche perché si diceva questo opinione di prosciugare le casse vaticane un po' perché ma si oddio in effetti c'erano stati precedenti un po' perché il concilio vaticano primo era stato chiuso anticipatamente perché erano arrivati bersaglieri e quindi non si poteva quindi molti avevano sostenuto dobbiamo completare il concilio vaticano primo in particolare il tema fu ripreso in un certo momento da più decimo e ancora con maggior convinzione da più undicesimo però un po' per la situazione internazionale un po' scoraggiati dal costo perché insomma tenete presente che il concilio costa una tombola eh un po' perché si temeva che questo avrebbe dato sponda agli oppositori che si intendeva condannare la cosa veniva procrastinata però molti tornavano a dire no ma qua ci vuole un concilio per condannare due cose il modernismo e il comunismo e nella condanna del modernismo si intendeva anche condannare l'ecumunismo certo c'era l'ottava cioè la settimana per l'unità della chiesa celebrata a fine eh gennaio e infatti è proprio in quell'occasione che Giovanni XXIII fa questa annuncia però per i cattolici l'unità della chiesa era che gli altri dovevano smontare baracche burattini entrare rientrare nella chiesa cattolica accettandone tutto dogmi sistema organizzativo sistema devozionale eccetera eccetera cosa naturalmente agli altri non andava molto di farlo questo annuncio di Giovanni XXIII venne poi ulteriormente caricato di significato quando Giovanni XXIII disse che non un concilio dottrinale sarebbe stato ma un concilio pastorale perché questa scelta di Giovanni XXIII perché mettere da parte le questioni di ordine teologico le condanne eccetera eccetera e parlare della pastoralità del modo di essere la chiesa nel mondo allora in primo luogo Giovanni XXIII non era affatto il non netto innocuo che i suoi colleghi pensavano era un uomo di fine capacità politica e capiva che l'apertura di un discorso del genere soprattutto sul difficilissimo tema di ecumenismo e modernismo avrebbe scatenato tensioni violentissime poi lui era stato in Francia come enunzio e sapeva perfettamente qual era il peso e il seguito che avevano quelle minoranze attive come i gesuiti di Lione e i domenicani di del saliceto e lui io continuo a non pensare che fosse un uomo della nouvelle teologie cioè un paramodernista in realtà era molto più diciamo misto molto più complesso però sicuramente non era ostile alla nouvelle teologie e anzi per certi versi lo dimostrerà poi nel concilio era anche insomma dire simpatizzante e dire troppo ma non era lontano ecco diciamo così quindi questa cosa già faceva temere che questo concilio aveva preso una strada in particolare in curia la reazione fu totalmente negativa perché perché la curia era abituata a decidere tutto con il papa sapeva perfettamente che l'episcopato residenziale gli era contrario però sai fino a quando l'episcopato residenziale non ha un luogo in cui costituirsi in assemblea e chi se ne frega invece un concilio forniva proprio questa occasione che la curia vedeva come il fumo negli occhi e quindi di qui un certo boicottaggio che ci fu per qualche anno per ritardare il più possibile inizio del concilio e anche nella preparazione dei documenti come vedremo che eh Giovanni XXIII lascò fare agli uomini della curia salvo poi lasciarli scoperti quando il concilio boccerà a raffica i documenti preparati in sede curiale la curia pensava va bene il concilio entro Natale lo chiudiamo apriamo ottobre a Natale chiuso eh perché presentiamo i documenti questi li votano sì o no chiuso basta in realtà invece già la prima votazione successe uno scontro perché i vescovi iniziarono a dire no momento se volete che noi prendiamo in considerazione questi documenti ci dovete dare il tempo non potete chiederci di votare a scatola chiusa per cui ci fu la decisione di vabbè o votate oppure si ritira il documento la votazione plebiscitariamente blocciò il primo documento e a quel punto si aprirono le cataratte e il concilio cominciò a diventare un concilio serio vero in tutto questo c'è una cosa da tenere presente l'incredibile capacità comunicativa di Giovanni XXIII vedete proprio nella stessa misura in cui il gelido Pio XII non fu mai un papa amato salvo che per le cose organizzate dalla curia cioè ma in realtà lascio sempre abbastanza indifferenti i fedeli non fu un papa carismatico al contrario lo fu Giovanni XXIII proprio per il suo stile altamente informale per la sua capacità capace di dire battute quando una suora lui si recò in un monastero il monastero del santo spirito e ad aprire la porta si trovò la superiore che non si aspettava di trovarsi di fronte il papa e imbarazzata disse santità io sono la superiore dello spirito santo e il papa la guardò e disse beata lei io sono soltanto il servo dei servizi di dio che da l'idea del personaggio non solo ma già nel natale successivo alle elezioni lui andò prima a far visita ai bambini ricoverati nell'ospedaletto tra l'altro era la prima volta che il vescovo di Roma usciva dalle mura del Vaticano dopo le sortite di Pio XII in occasione del bombardamento a San Lorenzo eccetera ma quindi circostanze eccezionalissime drammatiche poi il giorno dopo si recò a far visita ai carcerati altra cosa assolutamente insolita per un pontefice poi si ricorda il leggendario discorso sulla luna la sera dell'inaugurazione del concilio quando in realtà lui non doveva parlare fu spinto da monsignor Capovilla a salutare i fedeli convenuti in piazza San Pietro per celebrare l'inizio del concilio e allora il papa fece un discorso a braccio quello famoso del anche la luna viene stasera ad osservare quello che sta iniziando i lavori del concilio eccetera quando tornate a casa fate una carezza ai bambini e dite che è la carezza del papa cosa che conquistò il cuore e non solo dei romani io ricordo che c'era un vero e proprio culto personale di Giovanni XXIII la sua capacità comunicativa fatta di questo slancio umano di questa carica umana molto forte e fu uno degli aspetti che in qualche modo gli consentì di tenere testa alle resistenze interne della curia la curia non ha mai gradito troppo i pontefici innovatori il primo problema che si pose fu quello dei soldi ma ban presto venne fuori un problema di natura politica che facciamo della questione del comunismo scontatamente una parte del concilio dei padri conciliari avrebbe chiesto la condanna del comunismo ateo e in effetti cento vescovi guidati da Monsignor Ottaviani e fra i vescovi c'era Monsignor Lefebvre quello che vi farà lo scisma di Econ eccetera sottoscrissero una dichiarazione in questo senso come venirne fuori c'era poi un problema che c'erano alcuni vescovi in Unione Sovietica diciamo non troppo liberi ecco anzi siamo proprio le tavole state erano prigionieri e di cui invece si voleva che partecipassero al concilio venisse in occidente eccetera come risolvere la questione se hai un uomo come Monsignor Tissaran non c'è problema Monsignor Tissaran decise di andare a passare le acque a Ediam e per pura combinazione non vorrei che pensaste a una cosa organizzata proprio là si trovava anche il patriarca Kirill della chiesa ortodossa russa uomo del KGB col quale fra un bicchiere di acqua e l'altro si stabilì che la Russia avrebbe consentito ai due vescovi di venire in occidente partecipare al concilio per carità in cambio la chiesa si impegnava a non votare nessun documento di condanna del comunismo ateo cosa che in effetti avvenne la mozione dei cento padri conciliari guidati da Ottaviani semplicemente non è anche venne comunicata l'assemblea non è in votazione venne ignorata e il discorso finisce là ebbene inizia così la prima sessione del concilio gioanni del tresimo vedrà solo la prima sessione perché finirà nell'ottobre le 62 in teoria avrebbe dovuto riprendere nella primavera successiva in realtà venne rinviata anche perché il papa ormai stava decisamente male infatti morirà il 3 giugno e quindi basta non ci sarà la questione verrà ripresa poi con l'altro papa di cui diremo e però già cominciava a manifestarsi l'indirizzo la strada che la chiesa stava prendendo perché fra i partecipanti al concilio non c'erano solo i vescovi c'erano anche i consulenti che in realtà erano i teologi questo è un altro problema il rapporto che non è mai stato cordialissimo fra teologi e presuli vescovi eccetera della chiesa nella chiesa c'è la regola che la chiesa docente è fatta da pappi vescovi e preti ma si può anche darsi che un vescovo occasionalmente faccia il teologo se proprio ci tiene ma non è quello sono altri meccanismi con cui si decide e invece qui arrivarono dei sostanzialmente un nutrito manipolo di teologi fra cui Ratzinger che all'epoca era su posizioni nettamente diciamo non troppo distanti dalla nouvelle teologie come non troppo distanti era anche Urs von Balthasar ma arrivarono man mano anche Raner, Kung, Danielu, De Lubac, Schillebeck, Schillebeck, Schenu insomma il peggio del peggio della nouvelle teologia agli occhi dei tradizionalisti e quindi già lì si cominciò a capire che le cose si sarebbero complicate. Peraltro il Papa ci mise come si suol dire, scusatemi il tono troppo mondano che ho parlando di queste cose, ci mise il carico da undici con le sue due importanti egipiche. La prima la Mater et Magistra nella quale si spingeva molto oltre l'insegnamento sociale della Chiesa in materia sociale. Ma soprattutto la seconda sarà molto importante e bisogna ricordare che fu preceduta di pochissimo dalla crisi dei missili di Cuba. brevemente ricordo che l'Unione Sovietica stava andando a installare rampe missilistiche a Cuba proprio di fronte alle coste americane, alla costa atlantica dove sorgevano le maggiori città, da Boston a New York, un po' più dentro Washington, Philadelphia eccetera, New Orleans, quindi insomma la reazione di Kennedy fu violentissima e ci fu un momento in cui si temette la guerra perché gli americani non fecero mistero della loro intenzione di abbattere le navi che dopo di che quello sarebbe stato già uno stato di guerra. Ci fu un momento in cui sembrò quasi inevitabile lo scontro. In questo contesto Giovanni ventitresimo lanciò un appello ai governanti che però attenzione non era solo il governante, implicitamente era anche ai popoli, era alle opinioni pubbliche e nel complesso paradossalmente il più bacciato di tutti fu il presidente americano Kennedy che era cattolico, più presidente cattolico che insomma non poteva dimostrarsi troppo come dire subalterno alla richiesta pontificia e invece molto disponibile fu Khrushchev anche perché ci fu tutta un'iniziativa della diplomazia italiana molto probabilmente concordata con la Santa Sede che lasciò capire che insomma in cambio avremmo potuto smantellare le basi missilistiche americane in Puglia e perché no forse anche in Turchia che fu poi il punto di caduta dell'accordo, i famosi missili Jupiter fu la caduta dell'accordo punto di caduta. Per Natale Khrushchev mandò un telegramma di auguri al Papa, mai successa prima una cosa del genere. Qui di qui l'enciclica Pace Minterris di Roncalli di Giovanni XXIII. Ecco qui bisogna capire una cosa, la differenza fra il pacifismo di Benedetto Quindicesimo, quello famoso del discorso dell'inutile strage eccetera eccetera e il pacifismo di Roncalli. Benedetto Quindicesimo intanto fece quella cosa più per soccorrere l'amica Austria-Ungheria che realmente per uno spirito pacifista ma comunque parlava agli imperi. Il Papa parlava invece insieme ai governi e ai popoli e in questo senso fondamentale fu il suo impegno ecumenico perché in qualche modo puntava a mobilitare attraverso le diverse chiese l'opinione pubblica dei vari paesi e quindi c'era una componente di base molto importante non solo ma una dimensione politica che in qualche modo rendeva la sua azione non una semplice iniziativa più o meno morale ma una iniziativa politica a tutto tondo sia verso i governanti che verso i governati quello è un modello di pacifismo molto interessante da ripensare. Ecco qui c'è un'ultima riflessione che voglio lasciarvi. Quella della morte e del lungo processo di canonizzazione. Voi ricorderete quando morì Giovanni Paolo II il grido delle piazze era santo subito che scattolica le sue procedure complesse. Nel caso di Giovanni XXIII se fosse stato possibile sarebbe stata quella la richiesta. Anzi molti parlavano di una santificazione, di una canonizzazione di Papa Roncalli per acclamazione popolare che era un sistema usato dalla chiesa cattolica ma se non sbaglio fino al 200 una cosa del genere 200-300. Vox Populi, Vox Dei e quindi la cosa tramontò subito per carità figuriamoci e il percorso sarà un percorso molto lungo e accidentato. Ossi come al solito bisogna aspettare i miracoli figurati. Perché? Perché la causa di beatificazione di Giovanni XXIII venne introdotta nel novembre del 65 da Papa Paolo VI ma venne introdotta insieme alla proposta di beatificare Pio XII, operazione quanto mai complicata e per un po' di tempo l'idea era che le due beatificazioni dovessero procedere parallele. Solo che Pio XII insomma era molto difficile da far digerire. A ogni fiato arrivavano proteste da Israele, malumori e mugugni dalla Polonia e anche insomma tutto lo schieramento diciamo progressista diciamo della Nouvelle Teologie non si mostrava particolarmente entusiasta. Fatto che Giovanni XXIII sarà proclamato Papa da Papa Francesco nel 2014 se la memoria non mi inganna e quindi in realtà oltre mezzo secolo dopo. Mentre invece il processo di beatificazione di Pio XII di fatto si è arrestato. Nella Chiesa Cattolica il percorso ha quattro tappe. La prima tappa è quella dell'apertura del processo in cui il candidato agli altari viene dichiarato servo di Dio. Poi dopo quando se ne siano dimostrate le virtù eroiche c'è la possibilità di richienerlo venerabile cioè in alcuni precisi luoghi di culto pochi viene in qualche modo venerato e gli si può chiedere il miracolo. Dopo un primo miracolo c'è la proclamazione come beato quindi quella come santo la canonizzazione. Pio XII è ancora venerabile. Giovanni XXIII è santo. Nel linguaggio della Chiesa Cattolica questo ha un senso. Di fatto Giovanni XXIII aveva aperto la strada a un ribaltamento degli orientamenti della Chiesa. Un ecumenismo che non era soltanto l'idea della conversione degli altri al Cattolicesimo. Una gestione più collegiale della Chiesa attraverso la chiamata dei Vescovi e lui rispolverò il sinodo della Chiesa della Diocesi di Roma. ci sarà anche un rinnovamento teologico attraverso anche il ruolo dei consulenti che io ho citato. Ecco il tuono era riuscito a ridare slancio alla Chiesa Cattolica tirandola un po' fuori dalle sabbie mobili in cui Pio X, Pio XII l'aveva lasciata. Di qui il progetto conciliare e ne parleremo nel prossimo video dedicato al pontificato di Paolo VI e il concilio. Grazie.